Roma, velodromo Appio. A Bertocchi il massaggio mette nel sangue l'allegrezza della velocità e Toccaceli lo conferma. Maglia iridata, ben penati, campione mondiale direttanti per l'inseguimento. Cotur e Roncone si confidano, oggi è un tour in miniatura. Questo piccolo tour ha 12 traguardi su 60 giri, 5 li ha vinti Bertocchi. Degno secondo dopo essersi già giudicato l'Omnium in tre prove davanti a Cotur e Roncone, il francese Giguet. Ma adesso gli estremi si toccano, la corsa si prepara con l'immobilità. Il surplus è l'acrobazia iniziale di queste gare, chi per primo mette piede a terra dovrà guidare la corsa, cioè praticamente perderla. A 18 anni è difficile star fermi, vero Ghella? Ma una volta lanciato questo giovane campione dei dilettanti abbassa il primato della pista da 13 anni insuperato e lo porta a 23 secondi e 9 decimi, 58 all'ora, sei una moto caro Ghella.